Le donne, 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 la matematica, il teatro e le donne. E mi ricordo che quando mia mamma mi portava a spasco la carrozzella, oh la carrozzella da allora non è mia come le carrozzelle da adesso, eh no? L'era de fer, bombada, staifa con le rode piene, le gomme, anca, le ruote lenticolari Francesco Moser non l'ha inventa niente, le gavevo sulla carrozzella mi. Sol che è il titolo del spettacolo di stasera, non è il sol quel de fora che de solito arde, no siccome ho visto uno che guardava per aria prima, son qua eh? E non è neanche sol nel senso della nota musicale, perché della musica parleremo dopo, e sei fortunati che mi passare a freddor, se no dovevo intitolarla Aereo Sol. E non è neanche un modo presuntuoso di paragonarsi all'astro come che si usa a dire bel come il sol, perché non l'ha in meccaso. Non lo diserlo perché sarebbe un peccato scoprirlo alla meta. E a scuola, a scuola, anni e anni ancora di segregazione razziale. I popi? E le pope? Mi? Ero da questa. No, l'era un discorso massa long, spiegar che mi, con la matematica, che aveva un rapporto abbastanza conflittuale. Me mamma, quando che la neva udienza, gli diceva, non l'è stupido, signora? Toi per na mamma. Non se applica. E difatti mi non capivo perché dovevo applicarmi dal momento che, dato un problema uguale per tutti, doveva venire fuori 25 per tutti. Quando ho deciso di darmi a sport, non ho avuto dubbi. ciclismo. Me sono crompa la bicicletta da corsa, sotto l'aiuto intrepido del mio amico Guido, che lui leva in bicicletta, leva in sedio, quasi professionista, ne sono iscritti al club ciclistico Gardolo. che lui ha la carta in testata, con su un stema, insieme, e col motto, col motto che lei, due ruote per riempire le ore vuote. Invece ti dico, un'altra di più belle. Grazie.